L'agenzia di rating Moody's rivede a ribasso le prospettive di crescita della Germania declassandole da stabili a negative, bocciatura anche per l'Olanda sulla decisione pesa l'incertezza sul futuro della crisi europea. Secondo Moody's potrebbero servire più aiuti soprattutto per Italia e Spagna, Stati Uniti in allarme per le conseguenze sull'economia americana. Rimarrò al governo fino alla primavera prossima, Monti frena sull'ipotesi di voto anticipato ma i partiti malgrado le dichiarazioni ufficiali si preparano sempre più al ritorno alle urne in autunno e cadono i veti incrociati sulla riforma della legge elettorale ma i tempi sono ristretti e il calendario particolarmente fitto. I conti della Sicilia all'esame di Palazzo Chigi, il governatore Lombardo dopo aver confermato che il 31 si dimetterà oggi incontro a Mario Monti, gli enti locali tornano a protestare contro la spending review, le province avvertono con questi tagli difficile garantire l'inizio dell'anno scolastico e i sindaci scendono in piazza a Roma. Sguardo perso nel vuoto, capelli tinti di arancione così apparso in aula il kille di Denver, di fronte a lui anche alcuni parenti delle sue vittime, l'accusa non deciderà prima di un anno se chiedere la pena di morte, la difesa punterà sull'infermità mentale. C'è dunque anche la Germania nel mirino delle agenzie che valutano lo stato di salute dei paesi, Moody's in questo caso ha rivisto al ribasso l'outlook che significa la previsione di crescita appunto della Germania. Berlino scende da stabile a negativo, pesa su questa decisione la crisi europea, il declassamento non è certo una buona notizia per l'Italia perché rischia di metterci ancora più nei guai insieme alla Spagna. La Germania, già rigida sul fronte del fondo salva stati, dopo questa nuova decisione da parte appunto di Moody's potrebbe ulteriormente irrigidirsi. E allora vediamo se è arrivato il servizio appunto sulla decisione di Moody's che appunto ripetiamo ha declassato la previsione di crescita, non è una bocciatura sul paese, quelle che invece hanno riguardato nei giorni scorsi appunto Italia e Spagna. In questo caso si parla di previsione di crescita e la Germania non per la sua economia ma proprio per la crisi generale dell'Europa potrebbe subire appunto difficoltà nella crescita e questo è il giudizio di Moody's. Vediamo a questo punto se è pronto il servizio, se no andiamo avanti con il giornale e partiamo a invece quello che riguarda il presidente del Consiglio italiano Monti, appunto Monti che lo sapete è stato in Russia, ha incontrato il presidente Putin e appunto ha parlato della situazione della crisi economica europea. Allora sentiamo un po' qual è il servizio pronto, non ho capito a questo punto. vediamo il declassamento della Germania. La AAA, il voto più alto nella pagella della valutazione, resiste ma le stime sul futuro e il cosiddetto outlook arretra da stabile a negativo. L'ennesima bocciatura di Moody's stavolta colpisce il nord virtuoso d'Europa. Germania, Olanda e Lussemburgo, come dire, le fondamenta che permettono alla moneta unica di resistere agli assalti della speculazione globale. Un attacco che anche ieri ha interessato gli anelli deboli dell'eurozona mediterranea. Proprio la nebbia fitta sul risultato della crisi del debito europeo e la possibilità che Italia, Spagna e Grecia possano aver bisogno presto dell'intervento esterno, secondo l'agenzia di rating americana, peseranno negativamente in prospettiva sui bilanci dei paesi più forti. Un'eventuale uscita di Atene dall'euro poi, con i suoi costi altissimi, per l'Unione rischierebbe di trasformarsi nel colpo di grazia per la moneta unica. Da Berlino la replica è stata immediata, la situazione economica e finanziaria tedesca è solida, ha assicurato il Ministero delle Finanze, precisando che la capitalizzazione del settore bancario è sensibilmente migliorata e le prospettive di crescita sono solide. Wolfgang Schäuble ha definito unilaterale e ingiusto il giudizio di Moody's, restiamo l'ancora della stabilità europea e con i partner troveremo al più presto una soluzione. Nelle prossime ore incontrerà a Berlino il collega spagnolo De Guindos, mentre Unione Europea, Banca Centrale, Europea e Fondo Monetario Internazionale saranno ad Atene. Il giudizio negativo di Moody's ha chiuso una giornata durissima per i mercati europei sotto un attacco speculativo partito da Londra e dalle piazze asiatiche. Madrid e Milano, dopo perdite di oltre il 5%, sono riuscite a risalire solo grazie allo stop, alle vendite, allo scoperto deciso dalle autorità di controllo. Ma per i differenziali con i Bund tedeschi il danno è stato pesante. Lo spread per l'Italia ha raggiunto quota 520 punti e con tutte le borse europee in forte perdita e l'euro scivolato ai minimi sul dollaro dal giugno 2010. Puntuale, da oltreoceano è arrivato il monito di Barack Obama. L'Unione Europea deve tradurre in pratica impegni assunti per stabilizzare la situazione economica complessiva di cui il Presidente americano. Allora, giornata, ieri un lunedì lunghissimo con, l'abbiamo sentito, i mercati in difficoltà. Poi la notizia che vi abbiamo dato in apertura e cioè questa decisione, questo declassamento da parte di Moody's nei confronti della Germania e se la Germania esita sul fondo salva stati in particolare peggiora la situazione per tutti. Riflettori puntati sulla nuova giornata borsistica dopo il drammatico lunedì nero di ieri che ha fatto tremare i mercati di tutta Europa, Germania compresa. A pesare, secondo il Premier Monti, a colloquio ieri con Putin in Russia, sono le difficoltà e i dubbi nell'applicazione delle decisioni prese nell'ultimo vertice straordinario dell'Unione ed il ritardo nell'adozione dello scudo europeo antispread. Come è noto, la Corte Costituzionale tedesca dovrà dare un parere giuridico all'inizio di settembre e prima di quella data il Bundestag non potrà ratificare quell'accordo. E poi serve una licenza bancaria per l'SM, una maggiore dotazione di fondi, dunque per il momento lo scudo non esiste e ciò apre un varco alle scorrerie della grande speculazione internazionale. I partiti intanto reagiscono in ordine sparsa al nuovo attacco speculativo. Se la casa comincia a bruciare, credo la palla debba passare alla BCE. Questa è la tesi di Pierluigi Bersani, segretario PD, che evita di attaccare Monti. Come del resto evita di attaccare Monti anche il PDL, mentre ricorda che i compiti a casa sono stati fatti, dalle riforma pensioni alla spending review. Ma il PDL si leva un sassolino dalle scarpe. Fa notare che la crisi attuale dello spread dimostra come non era colpa di Berlusconi sia a novembre il differenziale raggiunse la quota record di 575 punti e quella crisi giustificò la caduta del governo del Cavaliere. Per la Lega Monti ha fallito, si deve dimettere subito per votare ad ottobre. Le certezze che avevamo fino a un mese fa, sostiene Maroni, si sono frantumate. Oggi c'è la dichiarazione di morte del governo Monti dettata dai mercati. Dello stesso avviso, ma dal fronte opposto, arriva la voce di Antonio Di Pietro, convinto che sia il momento di restituire la parola agli elettori perché l'Italia ha bisogno di un governo politico. Allora, partiti che oggi dovranno votare il decreto sviluppo, in giornata il governo dovrebbe porre la fiducia, mentre al Senato riparte il confronto sulle riforme. Avrebbero dovuto presentarlo già due giorni fa l'annunciato testo comune sulla riforma elettorale. Pensare che ai partiti bastassero dieci giorni appena per trovare punti di contatto, così in Commissione Affari Costituzionali, dopo che già erano saltate altre due scadenze negli ultimi otto mesi, era evidentemente troppo ottimistico. Quasi roba da fantascienza, considerando che perfino da una piccola formazione come Futuro e Libertà salgono in superficie voci discordi. Briguglio, preferenze sì, della vedova preferenze no. Ma lo spread che sale deve fare sui partiti e governo un doppio effetto, uno pro e l'altro contro l'eventualità di elezioni anticipate, che è la vera questione di fondo di queste convulse giornate. Propedeutica, come si può ben capire, a qualunque accordo di massima sulla riforma, che però è a sua volta una variabile tutt'altro che fissa, visto che una modifica del Porcellum dilaterebbe a sua volta i tempi elettorali. Questioni concatenate, come si vede. Quel che è certo è che la fine anticipata della legislatura, ventilata e poi smentita dallo stesso Monti, divide trasversalmente le forze politiche, PDL a parte, unito, sondaggi alla mano, contro un ritorno entro l'anno alle urne. E i tempi, forzatamente stretti, impedirebbero di fatto, non bastasse lo spread, lo svolgimento di una vera campagna elettorale. Enrico Letta, del PD, ha parlato di talpe al lavoro e mai, come ora, la partita è apparsa sotto traccia. Fatta di false piste, interessi incrociati, ingorghi di vantaggi e svantaggi, in un campo in cui nessun partito appare tutto d'un pezzo. E allora, tra i temi che fanno discutere i partiti, in particolare, lo ricorderete, un tema che ha agitato all'interno il Partito Democratico, c'è quello delle unioni civili. E allora, ieri è partito in Consiglio Comunale a Milano il dibattito sull'introduzione del registro appunto delle unioni civili, di dibattito che dovrebbe arrivare a conclusione prima della pausa estiva. Platea delle grandi occasioni nella sala consigliare del Comune di Milano, dove ieri si è aperto il dibattito sulla delibera che istituisce il registro delle unioni civili. Tra il pubblico ci sono anche loro, coppie di fatto e omosessuali, parte in causa nelle polemiche di questi giorni. Tensione alta da quando la curia ambrosiana ha preso posizione sul provvedimento, parlando di una operazione d'immagine che addirittura aprirebbe la strada alla poligamia. Ma il sindaco Giuliano Pisapia, pur ribadendo il rispetto per tutte le opinioni, a fare marcia indietro non ci pensa proprio. È una delibera che ripristi da un livello di guaglianza che è il minimo che può dare ai propri cittadini una città come Milano. E con anche la necessità per un sindaco di tener conto di sensibilità diverse, ma alla fine ci deve essere una maggioranza e soprattutto ci deve essere una decisione. La discussione divide trasversalmente gli schieramenti. Da entrambe le parti sono arrivati distinguo, per questo PD a favore e PDL e Lega a contrari hanno lasciato libertà di voto. La battaglia si gioca sul filo degli emendamenti e delle parole. La maggioranza correggerà la definizione di unioni civili come insieme di più persone che ha fatto infuriare la curia, specificando che si tratta di una coppia. Mentre l'opposizione punta sull'eliminazione del termine famiglia anagrafica da sostituire con coppia di fatto, per evitare una recuperazione tra nuclei familiari e unioni omosessuali. La Giunta spera di ottenere il via libera prima della pausa estiva per un testo che ha un valore soprattutto simbolico e che intende inviare da Milano un messaggio chiaro anche a livello nazionale, affinché dopo le prossime elezioni si faccia una legge su questi temi. Questo è un invito al nuovo Parlamento su un tema così delicato che presenta sensibilità diverse, ma su cui è necessaria una decisione, in un senso o nell'altro. Chiaramente quello che io aspico è nel riconoscimento giuridico delle unioni civili, così come previsto dalla Costituzione, così come indicato dalla Corte Costituzionale. A proposito di decisioni, le province dicono che potrebbero decidere, dopo le vacanze dell'estate, di non riaprire le scuole. Perché? Perché questa decisione sarebbe giustificata, secondo le province, da i tagli a fondi e personale introdotti dalla Spending Review. Durissima e drastica la replica del Ministro della Pubblica Amministrazione, Patroni Griffi, che dice che per i campanilismi non c'è scampo tra le regioni in difficoltà. Rimane la Sicilia sotto esame da parte della Corte dei Conti. Oggi il Governatore Lombardo incontra di nuovo il Premier Monti. A impressionare erano state innanzitutto le parole. Un'isola sul lorro del Baratro che galleggia sul vuoto finanziario alla deriva e con il rischio di affondare e ancora la Sicilia come la Grecia, Palermo come Atene. Ma a spaventare il Governo di Roma erano stati soprattutto i numeri, le cifre d'allarme rosso che fotografano il presente della regione siciliana. Per dimostrare che i conti tengono e non c'è un rischio default, il Governatore dell'isola, Raffaele Lombardo, si presenterà oggi a Palazzo Chigi al cospetto del Premier Monti e con in mano un copioso dossier. Sebbene anche il Ministro dell'Interno, Anna Maria Cancellieri, abbia ribadito ieri che non esiste il pericolo di un crollo finanziario, l'SOS lanciato nei giorni scorsi dalla Corte dei Conti siciliana ha agitato il fantasma del commissariamento sul Palazzo dei Normanni, tanto che l'eco di un crack dell'isola dalla stampa italiana è rimbalzato su quella estera guadagnando un titolo anche su New York Times. Secondo i magistrati contabili, le casse della Sicilia hanno chiuso il 2011 con un debito di circa 5,3 miliardi di euro e con 15 miliardi di euro di residui passivi, cioè di entrate iscritte al bilancio ma non ancora incassate che potrebbero trasformarsi in debito. A preoccupare è anche il numero di tutti i dipendenti regionali che supera quota 28.500 con una spesa pari a circa 760 milioni di euro. Lombardo non ci sta e intervistato nei nostri studi ribadisce la tenuta dei conti. Noi abbiamo un credito di un miliardo il governo si è precipitato a dire che ci darà questi 400 milioni vi posso assicurare che non abbiamo nessuna premura affinché il governo ce li dia perché i nostri conti tengono a prescindere da questi 400 milioni. La questione è delicata non è soltanto regionale ma investe il sistema Italia. Sotto l'attacco degli speculatori se la Sicilia si dovesse rivelare la Valencia in Spagna per le economie del paese ci sarebbe il rischio di una tempesta perfetta. E all'incontro che si svolgerà a Palazzo Chigi è legato a filo doppio anche il nodo della spending review in esame al Senato con i tagli previsti per gli enti locali e l'allarme lanciato ieri dal Presidente delle Provincie Giuseppe Castiglione che ha prospettato la mancata riapertura delle scuole a settembre. Oggi per gli stessi motivi la protesta dei comuni a Palazzo Madama. È transitato regolarmente questa notte in Val di Susa il treno carico di scorie nucleari che gli attivisti in Ottav avevano annunciato di voler bloccare. Il convoglio era partito da Vercelli e diretto in Francia imponente lo spiegamento delle forze di polizia per evitare l'occupazione dei binari ha presidiato la stazione di Bustoleno dove si erano riunite una cinquantina di persone. Sempre a Bustoleno per tutta la notte è stato bloccato un regionale con a bordo più di cento attivisti che volevano appunto raggiungere i loro compagni. Le proteste contro la linea dell'alta velocità continuano per sabato prossimo prevista una marcia manifestazione pacifica annunciano gli organizzatori da Giaglione a Chiomonte dopo lo ricordiamo l'assalto di notturno di sabato scorso. Ed è apparso ieri per la prima volta in aula per l'udienza preliminare James Holmes il killer che tre giorni fa Denver ha ucciso 12 persone all'anteprima del film di Batman capelli arancioni sguardo allucinato Holmes rischia la pena di morte. Lo sguardo perso nel vuoto gli occhi che ogni tanto si chiudono sembra quasi addormentarsi i capelli tinti di arancione la barba lunga e l'uomo che in un cinema di Aurora alle porte di Denver stato del Colorado ha ucciso 12 persone e ne ha ferite quasi 60 durante la prima di Batman in un cinema di Aurora. Del suo personaggio preferito dei fumetti e del cinema il cattivo Joker e antagonista di Batman James Holmes non ha più nulla forse anche perché secondo i medi americani potrebbe essere stato sedato. Dopo tre giorni di cella ieri è apparso così per la prima volta davanti al giudice in un'aula di tribunale per l'udienza preliminare. Non ha detto una parola ha ascoltato in silenzio i capi d'accusa pronunciati dal giudice federale. Sarà formalmente incriminato il 30 luglio rischia la pena di morte ma per saperlo ci vorranno diversi mesi. I magistrati americani hanno deciso che si consulteranno anche con i parenti delle vittime che ieri erano davanti al tribunale. Per il processo potrebbe volerci anche un anno. L'America è con voi e spero che presto potremo discutere di questa violenza senza senso che pervade il nostro paese. Ha detto il presidente Obama parlando del diritto a possedere armi letali garantito dalle leggi statunitensi. Holmes aveva speso 15.000 dollari in armi acquistandole online e trasformando poi la sua casa in un arsenale. bisogna fare in modo che le armi non finiscano nelle mani di chi non dovrebbe averle. Ha precisato poi la Casa Bianca argomenti difficili però da affrontare in piena campagna elettorale. E la Siria è pronta ad usare armi chimiche contro l'eventuale aggressione di altri paesi. La minaccia arriva dal governo che quindi ammette il possesso di armi chimiche smentendo però di averne fatto uso finora. Serve un governo di transizione i giorni di Assad sono contati insistono gli Stati Uniti. Si mobilitano forze militari e politiche intorno alla Siria a rendere ancora più esplosiva la crisi arrivano le minacce del regime di Bashar al-Assad l'uso di armi chimiche in caso di attacco esterno parole che hanno scatenato le reazioni della comunità internazionale che avverte sarebbe un tragico errore e il giudizio arriva direttamente dal presidente americano Obama l'attenzione è rivolta soprattutto ai civili nonostante le autorità del paese abbiano escluso l'utilizzo di questi arsenali contro la popolazione ma distinguere gli obiettivi in guerra non è cosa facile in queste ore i bombardamenti non hanno visto tregua dalla capitale ad Aleppo alle altre regioni al confine certo non si può ignorare che intorno al paese ruotino anche molti interessi geopolitici e il timore che queste armi che dunque Damasco ha ammesso di possedere possano cadere nelle mani sbagliate i depositi sarebbero sotto il controllo dell'esercito ma la coesione delle forze militari si sta indebolendo per defezioni e vittime schierata contro il regime siriano c'è anche l'Europa che ieri ha approvato un inasprimento delle sanzioni pur confermando per ora l'intenzione a non ricorrere all'intervento militare ma l'isolamento di Assad ormai è quasi totale anche la lega araba di cui la Siria fa parte è intervenuta per chiedere ufficialmente le dimissioni di Assad garantendogli in cambio un'uscita di scena sicura richiesta subito rispedita al mittente al bollettino di guerra intanto si aggiungono informazioni e numeri che risultano difficili da verificare si parla di esecuzioni sommarie in varie aree del paese mentre continuano i violenti scontri nella capitale e soprattutto ad Aleppo dove l'esercito libero avrebbe respinto l'attacco dei carri armati del regime numerose battaglie sono in corso in altre regioni trasfrontaliere dove i profughi cercano una via di fuga l'Iraq ha riaperto i balichi per accogliere l'ondata di siriani precedentemente respinti altri stanno trovando asilo in Turchia Giordania e Libano nessuna notizia invece di due italiani di cui si sono perse le tracce martedì scorso la Farnesina sta seguendo la vicenda con il massimo riservo perfettamente dentro e allora il calciomercato adesso sembrava una trattativa semplice in via di definizione nel giro di poche ore invece Mattia Destro non è ancora passato alla Roma interessate e sembrano anche Juventus ed Inter è saltato l'incontro tra il direttore sportivo della Roma Sabatini e gli agenti di Destro per conoscere il suo futuro ci vorranno ancora 24 ore fa sapere il presidente del Siena Mezzaroma la vicenda mi sta nauseando ribadisce invece Preziosi numero uno del Genoa che ha già l'accordo con i giallorossi il passare del tempo gioca a favore della Juve i bianconeri hanno il sì di destro ma il direttore generale Marotta si muove su più fronti Jovetic e Van Persi restano i veri obiettivi dei campioni d'Italia che dopo il trofeo team perdono Caceres per un mese e Pepe per 20 giorni a Torino si vuole anche monetizzare Krasic è vicino al Fenerbace mentre lo Zenit di Spalletti è piombato su Quagliarella che potrebbe finire tuttavia all'Inter in uno scambio con Pazzini i nerazzurri cercano un vice milito a Stramaccioni piace Denis dell'Atalanta nel frattempo riprende quota il discorso Lucas e sul mercato conferma il presidente del San Paolo che poi smentisce le voci inglesi sull'imminente passaggio del centrocampista offensivo al Manchester United per 33 milioni e mezzo di euro il club paulista ha inoltre dato l'ok al trasferimento del terzino Piris alla Roma che negli Stati Uniti ha scoperto un taxidis capace di gol come questo a Napoli invece tremano per le parole di Raiola se Cavani avesse la possibilità di andar via lo farebbe subito rivela il potente procuratore che ha portato Ibraimovic al Paris Saint-Germain una cessione che insieme all'addio di Tiago Silva ha fatto infuriare i tifosi del Milan il nome di Yang Ambiwa capitano del Montpellier non solletica la fantasia del popolo rosso-nero e allora per farsi perdonare Silvio Berlusconi e Galliani starebbero pensando al ritorno di Kakà oggi al Bernabeu vertice tra il padre dell'ex pallone d'oro e Mourinho il giocatore non rientra più nei piani del Real Madrid e una nuova avventura del brasiliano in Italia non è più una semplice suggestione Per gli aggiornamenti vi ricordo il sito tgla7.it prossima edizione del telegiornale alle 13.30 adesso dopo una breve pausa per la pubblicità ci sono le previsioni del tempo con Paolo sotto corona a seguire Omnibus buona giornata Grazie a tutti